Che le feste abbiano inizio! Noi abbiamo qualche tradizione, Elsa. Mi dispiace, Anna. È colpa mia se non abbiamo tradizioni familiari. Ren! Troveremo la tradizione più bella che Anna ed Elsa abbiano mai visto! Sei con me? Andremo porta a porta a cercare tradizioni familiari. Noi facciamo i bastoncini di zucchero. Sale il tasso al zuccherino! Quindi voi tagliate un albero e poi vestite il suo cadavere con le candele? Lo amo! La violazione di domicilio a Natale è ammessa. Guarda, un'altra renna! Ciao! Però stiamo facendo un attimo tempo! Quando siamo insieme! Andiamo a cercare la loro tradizione! Chi vuole proprio una scaldatina ogni tanto? Non so se mi spiego. La torta di frutta! Oh, schifo! Peccato, già digerita. Che provo adesso! 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 Che provo adesso!